Benvenuti nel laboratorio magico di Chubbyland, dove vi mostrerò il lavoro che c'è dietro ad ogni piccolo ciobbì. E quando comincio a mescolare la polvere dorata al nettare del bianco fiore delle Alpi, un pizzico di neve, il bianco muschio polverizzato e l'olio speciale dei funghetti raccolti al tramonto, nasce il seme. Grazie all'impasto speciale ottenuto posso procedere con la modellazione dei miei personaggi e ad un certo punto creo una piccola pergamena con un mantra speciale che purifico e potenzio e lo vado a inserire nella testa, così ogni mio piccolo chubby porterà auspiciosità a chi lo adotterà. Per le mie creazioni utilizzo materiale riciclato per la salvaguardia dell'ambiente. Uso principalmente carta, cartone, cotone e la pasta di legno per modellare. Ogni lavoro sorge prima dalla mente e poi si studia il progetto trasferendolo su carta. I soggetti modellati sono tutti dipinti a mano. Dietro ogni creazione ci sono una marea di emozioni, un duro lavoro, ma soprattutto tanto amore.